Il neoassessore Elena Galeone, quali le deleghe conferitele? Istruzione e politiche dell'infanzia, commercio e attività produttive, ecologia e ambiente. Devo dire deleghe importanti, soprattutto in materia ambientale, ma anche proprio la pubblica istruzione, l'infanzia, la crescita di quelli che saranno le future generazioni. Sì, sono deleghe che ho scelto io personalmente perché amo i bambini. Sentiva più vicini alla sua sensibilità. Penso che bisogna partire da loro per creare qualcosa di nuovo, un mondo migliore. Per quanto riguarda l'ecologia io spero di fare il meglio possibile perché il nostro territorio ne ha bisogno. Per quanto riguarda il commercio, sono un ex commerciante, quindi conosco bene le problematiche del territorio e vorrei impegnarmi anche in quello.